Ciao a tutti, sono Belluf del canale Bellufilmessage, bentornati in questo nuovo video, oggi per parlare di una serie da pochissimo uscita su Netflix che si chiama La Coppia Quasi Perfetta, però prima di cominciare vi ricordo di mettere like al video, quindi pollice in su e se vi va di iscrivervi al mio canale con un semplice clic sul tastino iscriviti che trovate qua sotto nell'interfaccia di YouTube. Allora, La Coppia Quasi Perfetta è la traduzione dall'inglese, dal titolo originale che è The One e sinceramente non so né perché l'abbiano tradotto e né perché gli hanno dato questo titolo, anche perché il titolo italiano, se vogliamo, è un piccolissimo spoiler al finale di tutta quanta la storia e se l'avete già vista la serie probabilmente mi darete ragione, però vabbè, si vede che in Italia dobbiamo avere per forza i titoli tradotti, altrimenti le serie non sono attrattive, forse Netflix pensa così, non lo so. Fra l'altro la serie è tratta dall'omonimo libro che si chiama qui sempre The One, quindi anche qua non vedo perché cambiare il titolo. Ma passiamo oltre, di cosa parla la serie? La serie ha un'ottima idea di base che ci viene presentata subito dalla protagonista che si chiama Rebecca, interpretata da Anna Weir, attrice che ho già visto in un film di Spike Lee, poi ha fatto anche altre serie tv però io quelle sinceramente non le ho viste e a me l'attrice è piaciuta molto, mi è piaciuta la parte di Rebecca, lei ci sta abbastanza, è brava perché ti tiene là fino in fondo, regge bene il palco secondo me in tutte le puntate, quello sicuramente promossa la protagonista. Ma torniamo, qual è l'idea principale della serie, qual è l'idea di base? È che attraverso una fantascientifica, diciamo sperimentazione genetica, Rebecca e il suo socio sono arrivati a trovare l'anima gemella per ciascuno di noi, cioè ci viene spiegato che per ciascuno di noi esiste un'unica anima gemella a cui possiamo essere associati, infatti nella serie si chiama abbinamento e facciamo un esempio, magari io attraverso un capello mando a loro il campione, loro mi danno la risposta e mi dicono che il mio abbinamento è una ragazza di Tokyo, è un maschio della Nigeria perché può essere sia maschio che femmina. Questa cosa è abbastanza carina, questa cosa apre un sacco di sviluppi, di trame all'interno di tutta quanta la serie perché alla fine tutta la storia, tutta la trama si dipana attraverso tre storie d'amore. Infatti fondamentalmente The One è un drama comedy, è legato più che altro ai rapporti fra i personaggi ed è, non dico che è una serie che parla solo di storie d'amore, però la cosa principale è quella è anche tutte le riflessioni che nascono da questa cosa, cioè dall'abbinamento, dal trovare l'anima gemella, è relativo più che altro all'amore. Poi c'è anche, vorrebbe essere anche una serie suspense di fantascientifico, solo questa scoperta genetica, non c'è altro, vorrebbe essere anche un po' un thriller, perché vorrebbe essere anche un po' un thriller, però secondo me è tutta roba di contorno, la cosa principale sono i rapporti fra i personaggi. Infatti dicevo, la storia si dipane attraverso tre storie d'amore principali che sono quello della protagonista con la sua anima gemella che si chiama Matteus, poi c'è quella più simpatica che è quella della coppia di colore, loro sono Mark e Anna e quello è proprio là dove si può riflettere di più sul fattore fa bene scoprire qual è la propria anima gemella oppure no, fa bene scoprirlo dopo quando magari si è già sposati, si ha già dei figli, e questa è carina come cosa da vedere, da leggere fra le puntate. E poi la terza storia d'amore che è quella un po' più scialba è quella della poliziotta che lei scopre di avere un'anima gemella a Barcellona mi pare, di sesso femminile, quindi è un liaison, un'anima gemella omosessuale, anche qua si scopre che avere l'anima gemella vuol dire essere felici per forza, vuol dire che quando tu trovi l'amore, quello determinato geneticamente, tu hai risolto tutti i problemi della tua vita oppure no? Ecco questa è la parte principale, la riflessione principale che ci lascia questa serie, cioè conoscere l'amore della nostra vita è quello che dà la felicità oppure non è detto che anche conoscendo l'amore della propria vita che si rincorre da sempre, che tutti quanti noi rincorriamo in maniera molto dantiana se vogliamo, non ci dà quella felicità alla fine che noi ricerchiamo. L'amore è sofferenza perché non si riesce a trovarlo, ma una volta che l'hai trovato ti dà per davvero la felicità che tu speravi? Secondo me è questo il punto, il fulcro, il cardine di tutta quanta The One e anche il bello della serie, perché? Perché poi le prime 3-4 puntate sono interessanti, la serie dura 8 puntate tutte di circa 40 minuti, però dopo le prime 3-4 diciamo che si trascinano un po' fra le storie, si perde un po' la storia thriller, la storia che ti dovrebbe tenere là per capire tutte queste cose che fa la protagonista perché la protagonista è anche abbastanza torbida come carattere, è risoluta, a un certo punto lei si ritrova l'amore però l'amore non gli basta e torniamo quindi al discorso di prima, vuole anche successo e potere però questo successo e potere gli farà fare delle cose che legalmente non si possono fare, non voglio fare nessun spoiler, però ma secondo me si inceppa un po' verso metà serie, poi l'ultima puntata invece chiude tutti quanti i nodi, non penso che di Adito ha una seconda stagione, penso di no, forse c'è qualche punto che rimane un po' sospeso però può essere che sia l'intento dello sceneggiatore, del regista di tutta quanta la serie, in conclusione consiglio la visione di questa serie, ma io la consiglio, non è una serie sicuramente da evitare, anzi soprattutto i primi episodi sono molto carini, i primi 3-4 episodi sono carini, è un'altra delle tante serie di Netflix messe là nel calderone, però sicuramente sopra la media. Detto questo ho detto tutto, spero che la mia recensione su questa serie vi sia piaciuta e come al solito vi saluto, vi ringrazio e vi abbraccio e ciao a tutti da Belluf e al prossimo video!